ma tira bare oggi ho trovato per strada quel vecchietto che ho messo a pittura di FECA ma non so di che si ha preso palla, io non lo so eh non c'è fatto niente, la professione deve fare a rigore, ma sicuramente cosa devo farlo eh ma non c'è meglio, non so di che si fa più palla ma quello qua, di proprio, mi impatta la conclusione, io l'ho contato tra l'uomo e te la prima fai così, questa roba qua eh, così eh ma la palla non l'ha venuta in mostro, non so proprio ma la prende a partenza, l'ha preso tutto guarda ma se due pesi prende lui, è la palla buona festa buona festa buona festa tutto pronto Lukaku contro Silvestri non mi ricordo che sia questo sentino buona festa non mi ricordo il ritorno è possibile l'attacco romano Lukaku non cacciato bene ha rallentato la forza attenzione perchè quando ribatterà al cento per cento cento per cento sicuramente sicuramente non è fai sinistra vediamo se è cambiato ancora Luca si bene dai qua dai qua grazie 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 tira a giro muorono tira la situazione direi che parlare quando si perde pare l'uscita o la seconda di un po sassess attenzione supera l'edita numerica per l'urinese l'ho preceduto accompagna la sassess a limite sassess perde l'ottimo rientra sassess compresa stop a tutto che occasione spreca anche l'urinese il 5 contro 3 sassess adesso sbagliare un golo premando il giro no, che non va a noi, che non si sa fare un giro se non ti tiene, anzio deve essere in tutti i gol e prende i centrali, niente, niente Ma godo come la merda, ma godo come la merda, godo come la merda, questa è la legge scritta, gol mangiato lo subito, success, ciao, gol, che credo che sia un provo 50 volte, ma ce la faccio. Subito L'Otaro, non posso sparire sto gol, non c'è scusa, poi è una soluzione, cioè c'è da L'Otaro sotto o tirare a porta in porta, o tirare a porta in porta, cioè c'è il sacco dentro. L'opera diretta in bambini, cioè c'è il 03-13L. Dannazione. Da dietro arriva Marès Logico prima di lui, ma poi, pazzo. Viense l'interno, vince 3 a 1, la finita mandata alla baciarina pulludinese. Viense, 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 viense. si avvicinano nel modo migliore a ragione del campo in Europa se per lì potrò forno